Grazie a tutti La poesia racchiude un po' di nuovo come corto di raggi tutta la poetica di Giuseppe No questa non è ridondante, questo qua è il nocciolo di tutto quello che c'è intorno Ha ragione Gabriele, questa idea che spesso nei tuoi fini si avverte questo sforzo impossibile di mettere in un'inquadratura tutto un mondo Io credo che Baria nasca anche da questo sogno, da questa utopia Sì questo c'è, questa sequenza che non vedevo da quando ho fatto il film perché dopo che filmescono non li vedo più L'idea era di raccontare in un'unica sequenza la febbre di questo paese che si prepara a ripetere un paio di battute Tratte da via col vento davanti alla macchinata presa di Gioia Morelli E l'idea era che man mano che queste battute volano via da situazione in situazione Il meccanismo della storpiatura fa diventare alla frase tutta un'altra cosa Alla fine Rossella si incazza Mi divertiva molto e soprattutto mi divertiva l'idea di realizzarlo in un piano sequenza Non tanto per la gioia di fare il piano sequenza Perché credevo che fosse più interessante che non realizzarla a quadrifissi in qualche maniera Questo avvitamento continuo, questa musicalità, questa gioia della folla Che poi si muove attorno alla tenda magica di Gioia Morelli Mi sembrava il modo più armonico col tema della sequenza stessa in riferimento al film Insomma io cerco sempre, quando devo trovare una soluzione Cerco sempre di essere fedele al film E il mio procedimento E forse è questo che determina quello che poi a voi sembra un avvitarsi Per me è un fatto di fedeltà stilistica Però ovviamente può anche essere visto come un fatto di ostinazione stilistica, lo capisco Senti è vero che nel finale originale del film Entrava in campo un grandissimo regista italiano Sì, il finale era diverso Gioia Morelli lasciava la ragazza così come avviene nel film E andando via si ritrova dei personaggi anacronistici sulla strada Dei briganti e dei soldati di un'altra epoca che li inseguono Insomma e si ritrova sul set di un film, viene cacciato via Si sta girando un film di Pietro Germi Insomma la gente del cinema vero si rende conto di questo strano personaggio Che ha questi macchinari allucinanti, questa macchinata presa bellissima Perché è una Mitchell E gli comprano tutto per due lire E però poi tutte le scatole di pellicola che ha lì Li fanno sviluppare insieme ai giornalieri del film di Pietro Germi E durante la proiezione si rivedono tutte queste facce dei personaggi Che lui ha preso in giro durante tutto il film Sovrapposti fra di loro perché la pellicola è stata riciclata più volte E c'era questo finale legato a questa genialità involontaria E c'era un finale un po' meno tragico di quello che è rimasto E un finale che non si è potuto fare per mancanza di soldi E quindi ho lasciato Gio Morelli che va via sentendo soltanto le voci Di tutti i personali Un finale che piace, a me piace anche quello Però in realtà ce n'era uno un po' più Ecco un ennesimo finale Visto che nei miei film spesso ce n'è tanti Era un ennesimo finale un po' più allegro Un po' più gioioso alla fine No ma se posso restare su questo Volevo anche sapere Io ho notato rivedendo gli spezzoni che poi sono stati montati Che probabilmente è una cosa già molto notata Però che è il bambino spesso che scatena questi percorsi È un ragazzino, un bambino Lo sguardo è un bambino che scatena queste piane sequenze A questi percorsi nel paese In Malena, il nuovo cinema paradiso Quindi può darsi che la ridondanza sia anche questa fantasia O questa memoria che scaturisce proprio da uno sguardo infantile Che poi immagino sia Questo bambino sarà tornatore Forse ha ragione Gabriele Probabilmente Siccome l'ho detto in questi giorni Quando mi chiedevano Ma fare altri film sulla Sicilia Quando ho fatto gli altri Perché questo è il mio quarto film di ambientazione siciliana Quando mi è successo di fare gli altri Alla fine Non avvertivo mai la sensazione di avere chiuso un discorso Sentivo sempre che c'era ancora qualcosa Ecco, questa sensazione Vi do una buona notizia Oggi non la sento Quindi può essere che certi temi Certe storie Certe situazioni Stavano montando Le volevo realizzare Apparivano qua e là Ma perché forse dovevano essere risolte in un altro modo Probabilmente ha ragione Gabriele Anche se a me viene difficile dire che è così Dicono che noi registri facciamo sempre un film Nella nostra esistenza E lo miglioriamo Però la realtà è sempre lo stesso Io posso dire che per me è abbastanza vero Quando io vedo i cortometraggi Che qui non ho portato per vergogna Ma io ce li ho Tu me ne hai chiesti Io però Insomma Mi sono vergognavo perché sono Perché mi vergogno Mi vergogno addirittura dei film che ho fatto Figuriamoci dei cortometraggi Di quando avevo 22 anni Però mi vergognavo Io questa cosa l'ho superata Perché per esempio di materiale hai superato Non l'ho mai tirato fuori E lì da 35 anni tutto conservato Non l'ho mai fatti vedere a nessuno Perché io provo la stessa vergogna Che può provare un pittore Quando gli dicono Voglio vedere i disegni che facevi Alla scuola materna Capito? Esattamente Però io l'ho superata recentemente questa cosa Perché Mi sembra I materiali fatti Quando ancora non sapevamo fare nulla Ammesso che oggi Sappiamo fare qualche cosa Mi sembra La testimonianza Di un interesse Di una Di una vocazione Di un viaggio Di un percorso E quindi sono interessanti Con tutti i loro Con tutti i loro errori Con le sfocature Con la macchina traballante Comunque Questo per dire Che nei miei cortometraggi Io trovo le stesse cose Che ancora cerco di dire Ostinatamente Nei miei film Cioè è come se io Avesse sviluppato Nel corso di Di vari film Un pensiero Che si sta raffinando Con la mia crescita Cioè crescendo Vedi il mondo diversamente Quindi vuoi migliorare Quel tipo di cosa Che vuoi mettere a fuoco Ma non sai nemmeno bene Come perché Tanto cresci Quindi il mondo cambia intorno a te E quindi cerchi di rimetterlo a fuoco Ma sfugge intanto Insomma potremmo dire In base a quello che stai dicendo tu Che quando un regista Analizza una storia Che gli viene proposto Che lui sta pensando E cerca di capire Se è nelle sue corde Questa è la frase Cercare di capire Se è nelle proprie corde Altro non è Che cercare di capire Se è il film Che ha già fatto un sacco di volte E chiama a continuare a rifare E poi migliorare il film precedente Attraverso il film Che potresti fare E a proposito Dei primi film Di Gabriele Adesso c'è uno Una sequenza Che Giuseppe ha scelto Da come te nessuno mai Vediamola Grazie